Faremo 2018, senti cosa manca a Sanremo oppure che cosa mancava al mondo prima che ci fossi tu? Prima che ci fossi io? Non lo so onestamente, però non lo so, mi metto in difficoltà. In fondo nella canzone c'è il mondo prima di te. Sì, ma non di me, il mondo prima di te, di te, nel senso. In generale il senso è che a un certo punto succede qualcosa nella tua vita che ti fa capire e ti fa vedere le cose in un modo diverso e quindi tutto ti sembra più colorato, più saporito, più intenso e questo è un po' il senso. E gli affianchiamo anche un bye bye? Gli affianchiamo un bye bye perché quando succede questa cosa, quando scopri queste cose, hai voglia di avventurarti nel mondo e vedere tutto quello che c'è di altro. E quindi ci sarà questo disco. E quindi ci sarà questo disco, 16 febbraio, bye bye, e lo presenterò in due date nei club, il 10 maggio a Roma all'Atlantico e il 14 maggio a Milano all'Alcatra. Un saluto a tutti, lettori al Sussidiario.net Grazie a tutti.